Buongiorno a tutti, benvenuti a Pallavinum 3 di Vinum. Pallavinum 3 è uno spazio nuovo che è stato creato apposta per noi per queste manifestazioni di Vinum 2010. Vinum 2010 ad Alba, oggi si apre la manifestazione, siamo con Fabio Gallo, il Presidente dell'Associazione Italiana Sommelier del Piemonte. Allora Fabio, cosa ci riserva l'AIS per questa manifestazione? Una parte di Vinum sarà gestito dall'Associazione Italiana Sommelier del Piemonte. Abbiamo organizzato per visitatori 12 grandi eventi a Pallavinum 3, i locali ricavati dallo stabilimento Mirolio Fashion. Sono 12 degustazioni importanti, organizzate per un pubblico un pochino più attento, un pubblico un pochino più preparato. Verteranno sui classici vini rossi piemontesi e non solo, quindi Barolo, Barbaresco, Roero, Barbera, Dolcetto. Ci sarà una degustazione dedicata ai vini dell'Alto Piemonte e poi anche una degustazione importante dei migliori bianchi piemontesi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.